Quindi apriamo subito con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni, oggi una grandissima, della musica italiana. Bentonati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno della riete nasceva una grande cantante italiana e compositrice, nota per aver composto un brano dedicato esclusivamente alle donne. Grazie a tutti. A Roma il 4 aprile 1954 nasceva la grande Fiorella Mannoia, figlia del standman siciliano Luigi Mannoia. La mamma era marchigiana. Loro portano Fiorella ad avvicinarsi al mondo del cinema come standwoman. Nel 1968 partecipa al festival di Castrocaro. Non vince, ma viene notata da alcuni dirigenti della Carish, che le diede la possibilità di incidere alcuni 45 giri. Nel 1970 conosce Mimmo Foresi e così firma un contratto con l'IT. Ma nel 72 c'è un cambio di rotta, perché la RCA italiana la vuole nella sua scuderia. Ma sono solo gli anni 80 che la consacrano artista come la conosciamo oggi. Nel 1980 infatti firma il nuovo contratto con la CGD e qui ci sarà la sua prima incisione molto fortunata con il brano Il pescatore, con il grande Pierangelo Bertoli. Negli anni successivi Fiorella Mannoia collabora con grandi personaggi di alto calibro, dove nel 1987 la vediamo al festival di Sanremo con il brano Quello che le donne non dicono. Non vince, ma vince il premio alla critica. Un brano scritto da Enrico Ruggeri che era destinato alla grande Fior d'Aliso. Nonostante fosse arrivata all'ottavo posto, questo brano rimarrà alla storia, perché è un grandissimo brano dedicato anche a noi donne. Un'altra vittoria nel 1988 al festival di Sanremo con Le notti di maggio, brano di Ivano Fossati, vinse solamente anche qui il premio alla critica. Però con questo brano, Le notti di maggio, Fiorella vinse la prima delle sei targhe del premio Luigi Tenco. Nel 1992 esce un album, Treni a vapore. Album scritto in collaborazione con Ivano Fossati, Francesco De Gregori e Enrico Ruggeri. E nel 1993 viene pubblicato un'antologia, prima etichetta della Arpo della stessa Fiorella, che offriva tre inediti reinterpretati del decennio precedente. Nel 1999 pubblica il suo primo album live, intitolato Certe piccole voci, certificato doppio disco di platino, con oltre 200.000 copie vendute. L'album comprende anche il singolo Sally, una delle più importanti e popolari interpretazioni cover di Vasco Rossi. Nel 2000 vince il disco di platino, con l'album Fragile. E nel 2005 arriva una grandissima nomina, ufficiale dell'Ordine al Marriott della Repubblica Italiana. Il 28 maggio viene pubblicato un singolo, Donna Omnia, dedicato al terremoto all'Abruzzo. Infatti lei qui, con altri grandi artisti come Laura Pausini, Elisa e tantissimi altri, hanno collaborato per mantenere viva la memoria della regione Abruzzo. Una curiosità, lei è una grande artista, sensibile, sempre vicina alle problematiche sociali, ma fin da piccola, sempre portatrice di voce a chi non l'ha. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi abbraccio affettuosamente, Silvia Pagni. Ciao a tutti e buon continuo di pomeriggio.